Sì, permettimi Stefano solo di dire due parole, nel senso che noi siamo qua e la preparazione fisica è importante. Devo dire che ringrazio soprattutto Luca Zago che non è potuto venire ed è un ragazzo che ci segue e che ci permette di arrivare veramente così preparati. Parlavamo proprio prima con Inziano e siamo arrivati senza trascinarci alla fine dell'ultima gara ed è quello che ci fa fare la differenza. Lui insieme a tanti altri, Andrea, Fabio, Francesco che sono tutti i ragazzi che ci aiutano in settimana perché come dicevi tu la federazione quest'anno si è messa in gioco aumentando quelle che erano bene fit per gli atleti e tante possibilità per i premi che gli altri anni insomma erano diventati veramente poco appetibili per noi giocatori.